È stata una partita molto strana perché non abbiamo giocato in maniera brillantissima neanche il primo set, il secondo set fino al 18-12, però avevamo tante intensità in difesa, si è stati molto 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 attenti e abbiamo sprecato poco. La partita è cambiata in una rotazione, cose che succedono, però guarda, chi segue questa squadra, chi l'ha seguita tutto l'anno sa quanto fosse delicatissima e quindi importantissima oggi. È finita 3-0 ed è un risultato, è vero che loro erano in difficoltà, è vero che sono venuti a prenderci dal 18-12 al 18 pari, è tutto verissimo, però chi ha seguito questa squadra sa quanto voglia dire questo 3-0 per noi oggi. Mancano 3 giornate a fine del regular season, credo che stiamo facendo un bel percorso, credo che si debba imparare a gestire le cose anche quando vanno male o quando è un momento di sbandamento come è successo oggi e quindi sì, molto importanti.